Ehi, Fantozzi, ma che fa qui? Oh, buongiorno, signorina Silvani. Buongiorno. Eh, niente, devo prendere una pratica qui della... signorina Silvani. Sì? Io mi sarei permesso di omaggiarla di un nastro bigolore per la sua calcolatrice di Suma. Io so che qui in ufficio non le danno, e allora sarei... Che carino. Lei è veramente un angelo, Fantozzi. Che bel pensierino, grazie. Signorina Silvani, sempre se la cosa non la disturba, io... Signorina... Signorina Silvani! Qui c'è? Buongiorno. Ma va via, va. Eh, una pratica urgente. Una pratica urgente? Che la faccio io? Devo andare in toilette. Ma all'occasione si presentò il giorno del funerale della madre del mega direttore naturale, Conte Lamberti, immaturamente scomparsa all'età di 126 anni. Fantozzi era nel pallone più completo, mani due spugne, salivazione azzerata, manie di persecuzione miraggi. Signorina Silvani! Cosa? Posso accompagnarla? Grazie, ma ho detto al geometra Calvoni che tornavo in tram con lui e... Sì, ma mi permetto di insistere. Ma gliel'ho promesso, scusi, scusi. Perché io avrei portato la macchina. A me? Allora, vi accompagno? Sì. Ne avremmo dovuto parlare oggi e non... Cerca di capire, ho un impegno privato della massima urgenza, quindi non posso... Ma dove va? Trego. Salvi, signorina. Grazie. Sì, benissimo. Oh, anche i fiori. Oddio! Ma fammi scusi, ma che razzo di scherzi, ma che fai... Ma mi vuole tumulare. Eh no, scusi. Un venoso qui procuò che mi ha portato l'untello... Qual è la sua? È questa. Ah, questa qui, questa baracca. Ma... Guardi, era meglio il carro funebre. Andiamo, va. Ma sì, dall'altra parte. Che c'è? Ah, sì, vabbè. Ma che c'è? Vabbè, ho capito. Fantozzi, si è fatto male? Io, come praticamente, solo frantumato un po'. Attento che chiudo, eh. Aspetti, preferisco chiudere, gentilmente. Io. Mi scusi, mi sono leggermente schiacciato, leggerissimamente. Poteva andare peggio, no? Molto peggio. Eh, ha visto la povera contessa. Oggi ci siamo e domani non ci siamo più. Guardi, chi vuole essere lieto sia che tanto domani non c'è certezza. Che dei versi, sono suoi? Eh, sì, una mia cosettina giovanile. Ah, anche poeta. E il significato? Cogliamo i fiori di questa primavera prima che sopraggiunga l'inverno. E quindi... Dica, e dica. Posso avere l'onore di averla a colazione? Gigi il Troione ho già prenotato. Ma veramente è un po' tardi. Non lo so, avrei un impegno e... Eh, già occupata, eh. Va bene, accetto. Accetto! Siete tre stronzi. Siete tre stronzi. Sì